Tornano le iniziative del Calcita ad Arezzo Fiere Congressi da giovedì 15 a domenica 18 settembre. Si parte giovedì con Calcita in scena, spettacolo di danza, canto e teatro. Venerdì 16 alle 21, serata dedicata alla prevenzione, focus sul fumo, con i professionisti dell'ASL Toscana Sud-Est, in collaborazione con l'unità operativa di pneumologia diretta dal dottor Raffaele Scala. Saranno presenti medici e associazioni e anche il liceo artistico di Arezzo darà il suo contributo con i lavori degli studenti. Teletruria riprenderà la serata, che sarà trasmessa interamente nei giorni successivi all'evento. Sabato alle 21 la corrida e domenica gran finale con il mercatino dei ragazzi, dalle 8 alle 19, tutte le sere a Pericena Pro Calcita alle 19.30.